Tony Michele Braxton è nata a Severn, Maryland, il 7 ottobre 1967. Suo padre, Michael Conrad Braxton Sr., era un pastore metodista e lavorava per una compagnia elettrica, mentre sua madre, Evelyn Jackson, originaria della Carolina del Sud, era un ex cantante d'opera e cosmetologa, oltre che pastora. Il nonno materno di Braxton era anche egli pastore. Braxton ha successivamente affermato che la sua educazione religiosa le ha dato un vantaggio musicale, spiegando che le ha conferito un udito più raffinato. Il pulpito della chiesa è il palcoscenico, hai la congregazione che è il tuo pubblico. E quindi eravamo a nostro agio nel fare performance. Braxton è la maggiore di sei fratelli. Ha un fratello minore, Michael Jr., nato nel 1968, e quattro sorelle minori. Tra i Cirenei, 1971-2022, Toanda Chloe, nata nel 1973, Trina Evette, nata nel 1974, e Tamare Stine, nata nel 2007, nel 1977. Sono cresciuti in una famiglia molto religiosa, e la prima esperienza di Braxton come performer è stata cantare nel coro della chiesa. Braxton ha frequentato la Bowie State University per ottenere una laurea in insegnamento, ma ha deciso di dedicarsi alla musica dopo essere stata scoperta da William E. Pettoway Jr., che avrebbe sentito la sua voce mentre cantava da sola, mentre faceva rifornimento di carburante. Durante un'apparizione al programma NPR Wait Wait, Don't Tell Me, del 24 maggio 2014, Braxton ha dichiarato di non aver cantato da sola alla stazione di servizio. Pettoway, che lavorava come addetto alla stazione di servizio di Annapolis, dove lei stava facendo il pieno, l'ha riconosciuta da esibizioni locali e si è presentato, dicendo di volerla produrre. Sebbene inizialmente scettica, Braxton ha deciso di correre il rischio, e ha accettato. Braxton e le sue quattro sorelle, Tracy, Tovanda, Trina e Tamar, iniziarono a esibirsi come The Braxtons, alla fine degli anni Ottanta, e firmarono un contratto con la Arista Records nel 1989. Il loro primo singolo, Good Life, fu pubblicato nel 1990. Sebbene il brano non avesse ottenuto successo, attirò l'attenzione dell'executive discografico Antonio L.A., Raid e del produttore Kenneth Babyface Edmonds. Raid e Babyface reclutarono Braxton per registrare una demo di Love Should Have Brought You Home, una canzone scritta da loro per Anita Baker per la colonna sonora del film di Eddie Murphy, Boomerang. Baker, allora incinta, non registrò la canzone, ma suggerì a Braxton di farlo. La sua registrazione fu successivamente inclusa nella colonna sonora insieme a Give You My Heart, un duetto tra Braxton e Babyface. Nel frattempo, Braxton firmò un contratto con l'etichetta LaFace Records, distribuita da Arista, e iniziò subito a registrare il suo album di debutto. Nel luglio 1993, LaFace pubblicò il primo album di Braxton, Tony Braxton. Prodotto principalmente da Reed, Babyface e Daryl Simmons, l'album raggiunse la prima posizione nella Billboard 200 e entrò nella top ten delle classifiche di album in Australia, Canada, Germania, Nuova Zelanda e Regno Unito. Il primo singolo, Another Sad Love Song, raggiunse la settima posizione nella Billboard Hot 100 e la seconda nella classifica R&B Singles. Il secondo singolo dell'album, Breathe Again, raggiunse le prime cinque posizioni sia nella Hot 100 che nella classifica R&B Singles e il secondo posto nel Regno Unito. Nel 1994 furono pubblicati altri singoli dall'album, tra cui You Mean the World to Me, Seven Whole Days e I Belong to You, How Many Ways. L'album di debutto di Braxton le valse numerosi premi, tra cui tre Grammy Awards per Best New Artist e due premi consecutivi per Best Female R&B Vocal Performance nel 1994 e 1995. Vince anche due American Music Awards per Favorite Soul R&B New Artist e Favorite New Adult Contemporary Artist nel 1994 e un altro nel 1995 per Favorite Soul R&B Album. Tony Braxton fu certificato otto volte platino negli Stati Uniti e vendette oltre 10 milioni di copie a livello mondiale. Nel giugno del 1996, Braxton pubblicò il suo secondo album, Secrets. Motivata dal desiderio di includere un po' di tutto, Braxton collaborò di nuovo con Babyface, ma lavorò anche con R. Kelly, Tony Rich e David Foster, coproducendo l'album. Secrets fu un grande successo, raggiungendo la seconda posizione nella Billboard 200 e entrando nella top ten di molte classifiche internazionali. Dopo 92 settimane in classifica, Secrets fu certificato otto volte platino, diventando il secondo album di Braxton a vendere otto milioni di copie. A livello internazionale, Secrets vendette oltre 15 milioni di copie, consolidando ulteriormente lo status di superstar di Braxton. Il primo singolo dell'album, You're Making Me High, rappresentò il primo numero uno di Braxton nella Billboard Hot 100, mentre il successivo Unbreak My Heart, una ballata scritta da Diane Warren, divenne il maggior successo della carriera di Braxton. Di conseguenza, Braxton guidò diverse classifiche di fine anno di Billboard e vinse due Grammy Awards, uno per Best Female Pop Vocal Performance per Unbreak My Heart e uno per Best Female R&B Vocal Performance per You're Making Me High, oltre a due American Music Awards per Favorite Female Soul R&B Artist e Favorite Soul R&B Album. Nonostante i successi, Braxton avviò una causa legale contro Arista e LaFace Records per questioni finanziarie che si rivelò infruttuosa. Poco dopo, dichiarò bancarotta secondo il capitolo 7 e la reazione pubblica a questi eventi fu particolarmente severa, espressa chiaramente in un'intervista a The Oprah Winfrey Show. Braxton ha anche partecipato a due spettacoli di Broadway prodotti da Disney. Fece il suo debutto a Broadway nei panni di Belle in Beauty and the Beast a partire dal 9 settembre 1998, sostituendo Kim Huber. Durante la sua permanenza nello spettacolo, Alan Menken scrisse e compose una nuova canzone per il musical, intitolata A Change in Me, appositamente per Braxton, e che era ancora in uso nel musical a fine luglio 2014. Abbandonò la produzione il 28 febbraio 1999 e fu sostituita da Andrea McArdle. Il ruolo di Belle in Beauty and the Beast segnò la prima e unica volta in cui una donna nera interpretò il ruolo principale di Belle a Broadway. In Gran Bretagna, Michelle Gale interpretò il ruolo nel West End. Fu anche la prima volta che una donna nera recitò in un musical Disney a Broadway. Nel 1999, la causa contro La Face Records fu risolta e a Braxton furono restituiti tutti i suoi beni, permettendole di dedicarsi alla registrazione di The Heat, il suo primo album dopo quattro anni. Dopo aver risolto la disputa di tre anni con La Face e Arista, Braxton firmò un nuovo contratto del valore di 20 milioni di dollari. Nell'aprile 2000 pubblicò il suo terzo album in studio, The Heat. Braxton adottò un approccio più diretto, coscrivendo e coproducendo alcuni dei brani dell'album, che presentavano un suono più urban. L'album esordì alla seconda posizione nella Billboard 200, con 199.000 copie vendute nella prima settimana e raggiunse infine il doppio platino negli Stati Uniti, vendendo oltre 4 milioni di copie a livello globale. Inoltre The Heat fu nominato per il Best R&B Album ai Grammy Awards del 2001, mentre il singolo di lancio He Wasn't Man Enough, un successo mondiale tra i primi dieci, vinse il premio per la Best Female R&B Vocal Performance e fu nominato per il Best R&B Song. Nel 2001, Braxton fece il suo debutto cinematografico nella commedia Kingdom Come diretta da Doug McHenry, accanto a un cast che includeva LL Cool J, Jada Pinkett Smith e Whoopi Goldberg. Il film fu un modesto successo al botteghino, incassando 23,4 milioni di dollari a livello mondiale. Nello stesso anno, Braxton registrò e pubblicò l'album Natalizio Snowflakes, che comprendeva brani originali a tema R&B scritti con Cary Lewis e Babyface, oltre a remix e versioni di classici natalizi. L'album ricevette recensioni contrastanti dai critici, molti dei quali lo paragonarono ad altre opere di Braxton, ma trovarono la produzione stilizzata e il materiale originale troppo contemporanei per evocare immagini natalizie, e non riuscì a entrare nella parte alta della Billboard 200, sebbene ottenne infine la certificazione di disco d'oro negli Stati Uniti. Nel 2002, mentre si preparava per il rilascio del suo quarto album in studio, Braxton scoprì di essere incinta del suo secondo figlio. Sapendo che non sarebbe riuscita a promuovere adeguatamente l'album, tentò senza successo di convincere Arista Records a posticipare la pubblicazione fino dopo il parto. Nel novembre 2002 uscì More Than A Woman. L'album, che aprì con una delusione commerciale immediata, raggiunse la tredicesima posizione nella Billboard 200, ma fu meno fortunato a livello internazionale. Il primo singolo, Hit The Freeway, non ottenne l'impatto sperato, risultando in vendite deludenti in generale e nella mancata pubblicazione di ulteriori singoli. More Than A Woman fu infine certificato disco d'oro negli Stati Uniti e vendette oltre 800.000 copie a livello globale. Nell'aprile 2003, Braxton lasciò improvvisamente la Arista Records, dopo 14 anni e firmò immediatamente con la Black Ground Records, guidata da Barry Hankerson, il suo manager dell'epoca. Successivamente iniziò a interpretare Ada nel musical Aida a partire dal 30 giugno 2003, sostituendo l'attrice Simone e rimase nel cast fino al 16 novembre 2003. Nell'aprile 2005, la nuova etichetta di Braxton, Black Ground Universal, pubblicò Please, il primo singolo dal suo quinto album, Libra. L'album, inizialmente previsto per giugno, fu rimandato più volte e fu infine rilasciato il 27 settembre. Libra raggiunse la quarta posizione nella Billboard 200, vendendo 114.593 copie nella prima settimana e la seconda posizione nella classifica Top R&B Hip Hop Albums. L'album fu certificato disco d'oro alla fine del 2005 e ha venduto 679.000 copie a livello mondiale. Nel maggio 2005, Braxton fece un'apparizione nel finale di stagione di American Idol 5, dove cantò In the Ghetto di Elvis Presley con il futuro vincitore Taylor Hicks. Un mese dopo fu rilasciato come singolo The Time of Our Lives, un duetto con il gruppo vocale crossover Il Divo che servì come inno ufficiale della FIFA World Cup 2006. Braxton eseguì il brano, che entrò nella Top Ten in Svizzera alla cerimonia di apertura a Berlino il 9 giugno 2005. Nell'agosto 2006, Braxton sostituì il cantante Wayne Newton come nuova headliner del Flamingo Las Vegas. Lo spettacolo, intitolato Tony Braxton, Revealed, era previsto per sei sere a settimana e sarebbe dovuto durare fino a marzo 2007. Successivamente, Braxton confermò l'estensione dello spettacolo fino ad agosto 2007. A causa del successo, si riportò che Braxton avrebbe esteso lo spettacolo fino ad agosto 2008, sebbene il show fu successivamente cancellato, per permettere a Braxton di concentrarsi sulla sua salute dopo essere stata diagnosticata con angina microvascolare. Il 12 gennaio 2007, Braxton intentò una causa da 10 milioni di dollari contro il suo ex manager Barry Hankerson, accusandolo di frode, inganno e doppio gioco, oltre alla cattiva gestione del suo rapporto con l'Arista Records. Secondo la causa di Braxton, Hankerson avrebbe messo i suoi interessi finanziari personali davanti ai suoi, usando doppio linguaggio per compromettere il rapporto tra Braxton e la sua ex etichetta, con Hankerson che avrebbe detto ad Arista che Braxton non voleva più registrare per Arista e a Braxton che Arista non era più interessata a lavorare con lei. La causa si concluse con Braxton costretta a restituire un anticipo di 375 mila dollari a Hankerson, che avrebbe anche ricevuto una percentuale delle vendite del suo prossimo album, e Hankerson liberò Braxton dal suo contratto. L'accordo limitò temporaneamente le compagnie con cui Braxton poteva firmare. Hankerson sostenne che i problemi erano sorti inizialmente a causa di una serie di controversie con Braxton e del suo desiderio di coinvolgere suo marito nella sua musica. Dopo la cancellazione improvvisa del suo spettacolo Tony Braxton, Revealed, Braxton affrontò difficoltà finanziarie quando la compagnia assicurativa Lloyd's of London rifiutò di onorare la polizza che aveva acquistato per oltre 70 mila dollari che includeva compensazioni per perdite finanziarie. Lloyd's rispose con una controcausa chiedendo danni a causa di una condizione cardiaca non correlata di cui la compagnia non era stata informata al momento della richiesta. Quando Braxton ammise di non aver divulgato la sua intera storia medica all'epoca si trovò responsabile di tutti i danni causati dalla cancellazione degli spettacoli venendo citata in giudizio da diverse aziende e dovendo nuovamente dichiarare bancarotta. Nel settembre 2008 Braxton partecipò alla settima stagione del programma di competizione di danza Dancing with the Stars in cui il suo partner era Alec Mezzo. Furono eliminati nella quinta settimana della competizione. Nel 2009 Braxton firmò un contratto con l'Atlantic Records e iniziò a lavorare al suo prossimo album in studio. Nel febbraio 2010 fu parte del supergruppo Artists for Haiti che registrò We Are the World 25 for Haiti una riedizione del successo del 1885 We Are the World per aiutare i cittadini di Haiti dopo il terremoto di magnitudo 7,0 MW. Tre mesi dopo fu pubblicato Pulse il suo settimo album in studio. Una raccolta di brani uptempo e ballate R&B con produzioni che variavano da stili morbidi a quelli dense l'album debuttò al numero 9 nella Billboard 200 vendendo 54.000 copie nella prima settimana e raggiunse la cima della classifica R&B Hip Hop Albums diventando il quinto album di Braxton nella top 10 degli Stati Uniti. sebbene il successo nelle classifiche fosse moderato altrove Pulse raggiunse la top 10 in Svizzera e la top 20 in Germania e Grecia. La critica accolse generalmente bene l'album ma i singoli Ieri, Mani legate e Fai battere il mio cuore ottennero un successo moderato nelle classifiche. Nel 2211 Braxton firmò con WeTV per una serie reality Braxton Family Values che racconta le vite di Braxton e delle sue sorelle Tamar, Tresci, Towanda e Trina oltre alla loro madre Evelyn. La serie debutò il 12 aprile 2011 e ricevette recensioni favorevoli dai critici che la riconobbero come un piacere colpevole e portò alla creazione di diverse stagioni e spin-off. Nel settembre 2011 Braxton si separò dal suo storico manager Vincent Herbert marito della sorella Tamar e firmò un nuovo contratto di management con la compagnia di intrattenimento che a produzione con sede a Los Angeles The Collective. Nel marzo 2012 pubblicò il singolo I Heart You una canzone dance pop, EDM e House che raggiunse il numero uno nella classifica US Dance Club Songs. Nel 2013 Braxton e il suo storico collaboratore musicale Babyface iniziarono a lavorare al loro album collaborativo Love, Marriage and Divorce pubblicato nel febbraio 2014 sotto l'etichetta Motown Records. L'album ricevette recensioni positive dalla critica musicale che lo definì R&B di alta qualità e debuttò al numero 4 nella Billboard 200 e al primo posto nella classifica R&B Hip Hop Albums vendendo 67.000 copie nella prima settimana. Love, Marriage and Divorce fu nominato per il World's Best Album I World Music Awards 2014 e vinse il Grammy Award per il miglior album R&B ai 57esimi Grammy Awards. Il singolo principale, Earth You raggiunse il numero uno nella classifica US Adult R&B Songs diventando il primo brano di Braxton a ottenere tale riconoscimento dal 2000 quando pubblicò Just Be A Man About It. La canzone raggiunse anche il numero 16 nella Billboard Hot R&B Hip Hop Airplay Chart. Braxton insieme a Babyface tornò a Broadway nel musical After Midnight nel marzo 2014. Terza in rotazione nel ruolo di Special Guest Star dopo Fantasia Barrino e Cadillang si esibirono dal 18 al 31 marzo 2014 al Brooks Atkinson Theatre. Nel maggio 2014 Braxton pubblicò un'autobiografia Unbreak My Heart A Memoir attraverso HarperCollins Publishers. Nel libro Braxton discute il successo e le difficoltà della sua carriera e il processo di autoguarigione che ha intrapreso dopo la diagnosi della malattia autoimmune lupus e la diagnosi di autismo di suo figlio. Nell'ottobre 2015 Tony e The Braxtons pubblicarono l'album Natalizio Braxton Family Christmas con Def Jam Recordings. Comprendente versioni di brani natalizi classici e diverse canzoni originali l'album debuttò e raggiunse il numero 27 nella classifica U.S. Billboard R&B Hip Hop Albums. Nel gennaio 2016 Lifetime trasmise il film biografico Tony Braxton Unbreak My Heart basato sull'autobiografia di Braxton con l'attrice Lex Scott Davis nei panni di Braxton. La premiere del biopic generò 3,6 milioni di spettatori. A luglio Braxton annunciò che sarebbe partita per un tour chiamato The Hits Tour previsto per ottobre. Tuttavia il 3 ottobre cinque giorni prima dell'inizio del tour fu ricoverata in ospedale a causa di complicazioni legate al lupus costringendo alla cancellazione delle prime due date del tour. Braxton fu ricoverata di nuovo il 15 ottobre portando alla cancellazione di un'altra data del tour che fu successivamente riprogrammata. A dicembre annunciò che le date dei concerti di gennaio 2017 erano state cancellate. Nel gennaio 2018 Braxton recitò nel film di Lifetime Faith Under Fire. A marzo pubblicò il suo ottavo album in studio Sex and Cigarettes il suo primo lavoro da solista in otto anni sotto l'etichetta Def Jam Recordings. Questo album di R&B contemporaneo per adulti prodotto da Fred Ball Babyface Dapo Torimiro e Tricky Stewart debuttò al numero 22 della Billboard 200 e al primo posto nella classifica Top R&B Hip Hop Albums. Sex and Cigarettes ricevette recensioni principalmente positive dalla critica musicale e fu nominato per il miglior album R&B ai 61esimi Grammy Awards. Il secondo singolo Long Ya Long As I Live raggiunse la vetta della classifica U.S. Adult R&B Songs diventando l'ottavo brano di Braxton a ottenere questo riconoscimento e permettendole di superare i cantanti Maxwell e R. Kelly per il secondo maggior numero di numero uno nella storia ventennale della classifica. Il brano ricevette anche nomination ai Grammy Awards per Miglior Performance R&B e Miglior Canzone R&B. Nel 2018 Braxton e Uncle Buds Hemp prodotti avviarono una campagna di marketing congiunta per i prodotti di quest'ultimo che Braxton notò essere utili nella sua lotta contro il lupus. Nell'aprile 2018 Braxton e le sue sorelle Trina e Towanda apparvero nel singolo di Tracy Broken Things. A novembre Braxton e Towanda recitarono nel film natalizio Every Day Is Christmas che debuttò su Lifetime. Nello stesso mese annunciò il suo tour As Long As I Live Tour una tournée congiunta con SWV che la portò in Sudafrica e Regno Unito. Nel giugno 2019 Braxton fu la headliner del Pittsburgh Pride Festival 2019. Dal 2020 a oggi nuovo contratto discografico e Spell My Name Nell'aprile 2020 fu annunciato che Braxton aveva firmato con Island Records. Il 6 aprile 2020 pubblicò il singolo Do It il suo primo brano sotto il nuovo contratto. A maggio Braxton rilasciò un EP di remix per il suo secondo singolo Dance. Il 26 giugno 2020 Missy Elliott apparve nel remix ufficiale di Do It co-prodotto da Elliot e Hannon Lane. Il 4 agosto 2020 Braxton pubblicò il video musicale di Dance diretto da Mike Ho. Il 27 agosto 2020 rilasciò il brano Nothing. L'album Spell My Name il decimo in studio di Braxton fu pubblicato il 28 agosto 2020. Il 23 ottobre 2020 Braxton rilasciò un video per il suo brano Gotham Move On. Nel 2021 Braxton partecipò alla sesta stagione di The Masked Singer nei panni di Pufferfish. Fu la terza a essere eliminata durante la premiere di Due Notti insieme a Dwight Howard come Octopus e Vivica a Fox come Mother Nature. Nonostante fosse stata svelata Braxton mantenne una maschera facciale KN95 glitterata per via della sua condizione di lupus. Braxton è anche produttrice esecutiva e protagonista del film Lifetime del 2022 The Fallen Angels Murder Club. Braxton è stata riconosciuta per la sua voce contralto distintiva. La sua voce è stata descritta come profonda sensuale elegante e sexy. A causa della caratteristica qualità grassa della sua voce Braxton ha spesso utilizzato cantanti maschili come Michael McDonald Luther Vandross e Stevie Wonder come modelli di stile vocale. Chaka Khan e Anita Baker sono state tra le poche cantanti femminili che Braxton ha cercato di emulare. Steve Huey di All Music cita la versatilità della voce di Braxton come una chiave del suo successo definendola abbastanza soulful per il pubblico R&B ma abbastanza morbida per l'adult contemporary sofisticata abbastanza per gli adulti ma sensuali abbastanza per i giovani ascoltatori forte abbastanza di fronte al cuore spezzato da attrarre le donne ma affascinante abbastanza per catturare l'attenzione degli uomini. Nel 2023 Rolling Stone l'ha classificata al numero 48 nella loro lista dei 200 migliori cantanti di tutti i tempi. Braxton iniziò la sua carriera cantando ballate e canzoni d'amore di R&B tradizionale e soft rock nei suoi album di debutto e secondo album. Tuttavia elementi di hip hop soul e musica dance iniziarono a essere incorporati nel suo sound in the heat more than a woman e pulse. Inoltre mostrò la sua formazione classica mentre si esibiva nei musical di Broadway Beauty and the Beast e Aida così come nel suo duetto con il divo the time of our lives. Braxton incontrò il musicista Kerry Lewis quando il suo gruppo Mint Condition aprì i suoi concerti in tour. Si sposarono il 21 aprile 2001. Nel dicembre 2001 Braxton diede alla luce il loro primo figlio Denim Cole Braxton Lewis. Nel 2002 mentre si preparava al rilascio del suo quarto album in studio Braxton scoprì di essere incinta del secondo bambino. La gravidanza complicata la costrinse al riposo a letto. Il secondo figlio della coppia Diesel Kai Braxton Lewis nacque a marzo 2003. Poiché Diesel è stato diagnosticato con autismo Braxton si è coinvolta con Autism Speaks servendo come loro portavoce internazionale. Nel novembre 2009 Braxton annunciò che lei e suo marito si erano separati. La coppia divorziò successivamente a luglio 2013. Nei suoi primi 30 anni Braxton abortì dopo aver scoperto di essere incinta del suo allora fidanzato Carrie Lewis. Nella sua autobiografia Unbreak My Heart Braxton parla dell'aborto e del senso di colpa affermando che l'autismo di suo figlio Diesel era il payback di Dio. Durante un concerto al Flamingo Las Vegas nell'ottobre 2006 Braxton scoppiò in lacrime mentre annunciava al pubblico che poco prima dell'inizio del concerto era stata informata che suo figlio Diesel era stato diagnosticato con autismo Braxton è stata critica nei confronti dei medici per non aver diagnosticato prima la condizione di Diesel sostenendo che una diagnosi precoce avrebbe potuto garantire un trattamento tempestivo oltre a diventare portavoce di Autism Speaks è anche portavoce dell'American Heart Association L'8 luglio 2015 l'avvocato di Braxton Antavius Wims annunciò che Braxton aveva risolto la sua controversa causa di mantenimento dei figli con l'ex marito Kerry Lewis il 2 giugno 2016 le autorità cittadine e della contea di Atlanta Georgia dichiararono il 2 giugno come Tony Braxton Day Braxton iniziò a frequentare il rapper Birdman a maggio 2016 e la coppia annunciò il fidanzamento a febbraio 2018 a gennaio 2019 la coppia annullò il fidanzamento tuttavia ad aprile 2019 sia Braxton che Birdman confermarono di essere ancora insieme ma a partire dal 2022 Braxton ha fatto diverse apparizioni televisive dove ha dichiarato di essere single e di essere tornata sulla scena degli incontri suggerendo che la sua relazione con Birdman sia terminata nell'agosto 2007 circolarono voci secondo cui Braxton era stata diagnosticata con il cancro al seno tuttavia dichiarò a Access Hollywood che le voci sul cancro al seno erano false e che la sua salute era molto buona nel 2008 Braxton si sottopose all'asportazione di un nodulo benigno dal seno l'8 aprile 2008 verso la fine del suo impegno di due anni al Flamingo Hotel Braxton fu brevemente ricoverata in ospedale e le date rimanenti dello spettacolo previsto per concludersi il 23 agosto 2008 furono cancellate successivamente mentre appariva nella settima stagione di Dancing with the Stars dichiarò di essere stata diagnosticata con angina microvascolare malattia dei piccoli vasi il 18 novembre 2010 Braxton rivelò a CBS News di essere stata diagnosticata con lupus eritematoso sistemico LESS una malattia autoimmune potenzialmente letale l'oncologo di Braxton morì a causa di complicazioni legate al lupus mentre registrava il suo reality show Braxton Family Values fu ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico Braxton fu ricoverata a Los Angeles nel dicembre 2012 per problemi di salute minori legati al lupus Toni Braxton è diventata una superstar dell'R&B dopo l'uscita del suo primo album L.A. Reid ha dichiarato in un'intervista a VH1 la chiamavamo la prima donna di La Face era la nostra diva Clive aveva Whitney Tommy aveva Mariah e noi avevamo Tony la BBC ha descritto l'album come soul maturo al massimo e appena urbano abbastanza da diventare l'album da camera per la generazione hip hop durante la sua carriera Braxton ha venduto oltre 70 milioni di dischi di cui 40 milioni di album a livello globale il suo successo Unbreak My Heart una ballata scritta da Diane Warren è rimasto in cima alla classifica per 11 settimane Bob McCann autore dell'Encyclopedia of African American Actresses in Film and Television 2010 l'ha definito uno dei più inquietanti dischi R&B mai realizzati il recensore Mark Edward Nero l'ha considerata una delle migliori canzoni di rottura R&B e il momento migliore di Braxton aggiungendo che questa canzone è così triste da far piangere le persone per ore Braxton ha ricevuto 7 Grammy Awards 7 American Music Awards e 9 Billboard Music Awards è stata citata come influenza da vari artisti come Beyoncé la sorella Tamar Braxton Billy Godfrey Kelly Clarkson Lila James Keisha Cole Tayana Taylor Keilani Savin Streeter Ari Lennox e Anya Nissen nel corso della sua carriera Braxton ha avuto un impatto notevole anche nella moda soprattutto per le sue audaci spaccature nei vestiti nel 2211 è stata classificata al primo posto nella lista dei meglio vestiti del decennio ai Grammy Awards ho sempre optato per uno stile un po' audace con i miei outfit per i premi nel 2012 Braxton è entrata nella lista delle 50 donne più grandi della musica di VH1 la sua performance al Super Bowl 34 del 2000 è considerata una delle più memorabili di tutti i tempi Braxton è anche una delle protagoniste del popolare web parodi Got To Be Real The Diva Variety Show con la sua residenza a Las Vegas Tony Braxton Revealed è diventata la prima artista afroamericana a entrare nella top 10 delle classifiche dei concerti di Las Vegas ha anche attirato l'attenzione per il suo gianto million dollar microphone che utilizzava in ogni spettacolo Braxton ha detto penso che sia un grande elemento dello show devi avere un tocco di liberace e questo è il mio piccolo tocco il microfono era realizzato in oro bianco e incastonato con 650 carati di diamanti il suo costo era di circa un milione di dollari Braxton è stata anche vista come un'icona gay con alcune delle sue canzoni diventate inni per la comunità LGBTQ plus come Unbreak My Heart He Wasn't Man Enough e Make My Heart la cantante ha dichiarato che dopo il successo di Unbreak My Heart ha riconosciuto tutto il supporto ricevuto e l'ha trovato davvero meraviglioso quando le è stato chiesto dei suoi fan gay Braxton ha detto amo i miei ragazzi perché mi aiutano a essere una persona migliore il mio coreografo e il mio regista video sono gay e sono stati i miei migliori amici fin dall'inizio della mia carriera sono la mia parte preferita dell'intero settore